Salve a tutti per questo nuovo video, spero che sia dallo stesso alla mia tiara, perché ho messo uno sfondo un po' fiorito, anche se non copre tutto. Purtroppo perché è una mia coperta. Voglio cambiare la mia postazione, ma ancora non riesco, perché purtroppo c'è tanto casino, quindi scusatemi per il video già in anticipo. Allora, questo speciale uscirà il 10 maggio, che è la presa della mamma, quindi auguri a tutte le mamme d'Italia, del mondo, di chiunque vuole vedere a questo video. L'augurio è anche la mia, che ovviamente rifaremo il regalo, che ancora lei non sa. E niente, volevo anche augurare gli auguri della festa della mamma all'amica che da poco è diventata mamma, quindi è il suo primo anno da mamma. Ovviamente la bambina adesso avrà un po' di settimane, quindi ancora comunque è il suo primo anno da mamma, quindi volevo fargli gli auguri. Ovviamente non dico nome né niente, perché voglio che rimanga una cosa privata per lei, magari vuole dirlo lei a tutti, quindi non faccio nomi. Procediamo con il video. Allora, non è un video per la festa della mamma, perché tanto preferisco parlo privatamente. Ho visto che tanto saremo tutti a casa, quindi io vivo con mia mamma, quindi non c'è nessun problema. Mi scuso ancora per i rumori, ma oggi sembra che sia, non so, nel mio quartiere si sono sviati tutti, è mattina, però... Allora, questo giorno è anche la ricorrenza dell'anniversario dei miei tre anni su YouTube, sì. Ebbene, ormai sono una sorveterana, no scherzo, però sono tre anni che sono su YouTube. L'inquadratura, ve le risposto leggermente, allora. Sì, sono tre anni che sono su YouTube e quindi volevo, diciamo, fare un discorso. Spero che lo ascoltate fino alla fine, anche se è palloso e lungo. Ma palloso no, però apprezzerei che lo ascoltaste fino alla fine. Rumori compresi di sottofondo. Allora, io ho cominciato questo percorso, molti non lo sanno, ma io lo dico sempre. Non perché non mi ascoltate, per carità, ma perché nel passato degli anni ho fatto tanti di quei video, hanno fatto più di 500. Senza contare live, alcuni video li ho tolti, li ho rimessi, li ho rifatti. Adesso ho anche un secondo canale. Voglio raccontarmi un po' la mia storia, allora. Molti mi hanno sempre chiesto perché sono su YouTube. Sono su YouTube perché mi ha spinto il mio attuale ragazzo, che all'epoca non era il mio ragazzo. Ci tengo sempre pronta a precisarlo. Era il mio miglior amico, ovvero il mio compagno di classe. Che mi ha detto, Sara, ma dai, sfruttalo, perché io creai il mio canale, per sbaglio. Infatti il mio primo video risale a più di quattro anni fa ed era un video dedicato a mia sorella per il suo diciottesimo compleanno. Io sono mia sorella a ventiquattro anni, quindi... No, ventiquattro anni no, di meno, spero. Non so quanti anni è mia sorella. Intanto non guardo mai i miei video. Comunque ha quattro anni meno di me. Io non devo fare ventisette, quindi lei ne ha quattro, ventitré. Sì. Ce l'ho vicina, dai. Comunque, era il mio video che buttai per sbaglio su YouTube senza voler farlo apposta perché avevo usato appunto Cile Master, non avevo capito che lo stavo buttando su YouTube. Era per i suoi diciott'anni. Poi feci dei video un po' a caso, insomma, che tuttora forse ci sono online, alcuni li ho tolti perché erano veramente stupidi. E altri avevo paura che mi davano il copy, perché all'epoca non capivo cosa si potesse o non si potesse pubblicare. Nell'ecco di questi anni ho imparato tante cose. Ho imparato a editare, ho imparato a fare conoscenze. Devo dire che il mondo di YouTube mi ha aiutato tanto, nel senso che io non guadagno un becco di un quattrino, non guadagno, veramente. Però ho riscoperto tante cose, ho riscoperto. Nel senso che il mio ragazzo attuale appunto mi ha convinto all'epoca a mettermi in gioco perché comunque avevo una buona parlantina, parlavo molto, mi piaceva esprimere questa cosa. È come avere un diario virtuale delle persone che comunque ti seguono, ti rispondono. Sono iniziata, cioè io ho visto, ho fatto un giorno e ho fatto lo speciale dei 30 iscritti che ho fatto con un baratto. Ci sono dei video che sono allucinanti, non so neanche il motivo per cui li ho fatti tanto tempo fa, però all'epoca magari mi sembrano belli, quindi a cui li ho lasciati. Ho fatto uno speciale per i 30 iscritti, perché per me all'epoca era una cosa fantastica i 30 iscritti, che poi erano praticamente i miei amici che mi seguivano. Poi feci uno speciale di 140 direttamente, no forse i 90, prima dei 90 e poi 140, andavo a Muzzo, non seguivo una cosa ragionevole. Però comunque sono sempre stata contenta, nel senso che ogni mio iscritto in più per me era un traguardo importante, perché comunque vuol dire che crescevo, anche se adesso sono passati tre anni e uno potrebbe dire, ah tu pensi avere 100.000 iscritti. Io ne ho 1400 o qualcosa, ho quasi 1500 iscritti. Per me va benissimo, perché a me l'importanza non è il numero e la qualità, come in tutte le cose, come degli amici, delle amicizie, anche perché io ho proprio scoperto delle amicizie. Perché sì, ok, si fa gli iscrittori in cambio, quasi tutti l'hanno fatto all'inizio, perché di farti conoscere. Da lì però io ho scoperto delle amicizie, che le persone non sapranno mai, io le taggarò in questo video, perché avete fatto questo percorso con me, quindi io vi taggarò, che fate comunque parte del mio canale, del mio mondo, e quindi vi taggarò. Le prime persone che ho conosciuto sono state Boiler, che è stato praticamente un ragazzo che mi ha aiutato tantissimo all'inizio, e che è l'unico che ancora mi chiama Catcher, che è perché io non mi sono chiamata su The Red Princess, ma il mio primo nome in assoluto era Catcher Kid Dream for Eternity, pensate voi come ho creato il canale. Poi quando mi sono messa in gioco col canale l'ho cambiato in Catcher Kid Dream, che era la chiappa sogni. Poi l'ho cambiato di nuovo nome, perché nessuno capiva il significato, non ce l'ha pronunciarlo, ed era Catcher Kid Dream, la chiappa sogni, per far capire la traduzione. Era il mio primissimo nome, poi l'ho cambiato tante volte, adesso poi è nata Red Princess. Red Princess è nato semplicemente perché io mi chiamo Sara, Sara significa principessa, da lì Red Princess, poi vabbè Red, perché era un colore che per me ha un significato molto profondo, non è il mio colore preferito, è uno dei miei colore preferiti, ma nell'ambito del fatto che mi piaceva i vestiti di rosso, mi piaceva i capelli rossi, è anche il colore preferito del mio ragazzo, ma era un colore che mi rappresentava molto, perché comunque è un colore molto forte. Da lì Red Princess, quindi è nato così, comunque c'è anche un video, che se riuscirò ve lo metterò poi sotto, da qualche parte lo metterò, che c'è proprio scritto perché ho cambiato il mio nome, ma comunque farò una playlist magari se riuscirò, dove metterò alcuni miei video che secondo me non ha un significato, e poi lo metterò sopra nella i, perché da tanto che non la utilizzo, utilizziamola, no? Quindi però comunque appunto volevo ringraziare le persone che comunque negli anni secondo me hanno fatto parte di questo mio mondo, di questo mio percorso, che comunque sono cresciuta, molti mi hanno conosciuto appunto quando avevo pochissimi iscritti, tra cui appunto c'era Boiler, c'è Sballo TV, adesso non so più come si chiami, che sono stati i primi che ho conosciuto, se riuscirò a mettere sotto i link, sarà un lavorone ragazzi, e volevo taggarli perché mi ha fatto la battuta in chat, sballo, da qualche mita anche così mi pubblicizzi, sì, ti pubblicizzo anche se vuoi, non c'è nessun problema, siete comunque parte del mio percorso, quindi siete comunque persone che, non solo persone che comunque ho incontrato, ma comunque che ho fatto omicizia, siete il mio gruppo di YouTube, nelle chat, poi ho conosciuto tantissime persone, chi magari da più anni, meno anni. Diciamo che io all'inizio, prima di fare questo percorso, mi ispiravo molto a varie YouTuber, poi negli anni sono cambiata, rio dal fatto appunto che io seguissi magari tipo la Sabri, ora che non la seguo più, ma a questo punto non lo voglio mettere nel mio speciale, ma comunque seguo, ancora tutto ero moltissime ragazze che seguivo anche allora, come ad esempio Shantilive, RoxyRoxTV, ho spesso di seguire altre persone perché non mi rispecchiavano più, perché poi facendo video impari un po' a improntarti, ovviamente io non ho mai copiato nessuna, nel senso magari prendo spunto un po' da uno, un po' dall'altro, però ho sempre fatto le mie cose secondo il mio carattere, per quello ho sempre fatto tantissime rubriche, poi a un certo punto mi sono resa conto che alcune tematiche andavano più di altre, tipo ho sospeso un po' i vuoti di Nadei, perché comunque non riuscivo più a montarli, li ho sospesi, ho fatto anche le mie tematiche sessuali, ho ripreso alcune rubricche, alcune rubricche le ho abbandonate, perché vedevo che non davano molto interesse, ho iniziato molto a fare l'unboxing, ho scoperto il magico mondo dell'SMR, nell'SMR ho scoperto tantissime persone, torniamo un secondo indietro la prima, così vi spiego bene, non mi piace l'inquadratura, non mi piacerebbe mai l'inquadratura, allora ritorniamolo un attimo prima, ritorniamo un po' prima, un po' prima ho scoperto il mondo dei make-up, cosa che io non mi so truccare, come vedete lo sono ancora truccata, ho scoperto comunque tante persone e ho scoperto anche tanti gruppi, perché sono passata da tanti gruppi di youtuber a un altro, lì ho conosciuto la Sefi, ho conosciuto tante ragazze, come anche poi, per farvi un esempio, Sefi forse è la ragazza che conosco anche da più tempo rispetto agli altri, perché comunque poi se non minero tutti, scusate, mi siete veramente tanti, non minero le persone comunque con un rapporto maggiore, la Sefi l'ho conosciuta da una ragazza ovviamente tanto 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 solare, lo è tuttora, il canale lo faccio sempre sotto in fondo, è diventato anche una delle mie moderatrici, per l'appunto, poi ovviamente c'è il canale del mio ragazzo, va bene, il mio ragazzo è nato con me, il mio ragazzo mi ha spinto a fare appunto questo canale, perché lui mi ha sempre detto che comunque avevo la voce, che comunque potevo essere molto logorroica, perché ero molto logorroica, e lui ho avuto il canale sin da prima di me, ovviamente il ragazzo lo posterò sotto, si chiamerà sempre Andrea93, ha cambiato nome per un po' di tempo, ma secondo me si trova bene così lui, perché comunque io l'ho sempre visto col suo nome, è la sua data di nascita, semplicemente così, anche lui adesso, come me, ha aperto un secondo canale, perché da poco abbiamo deciso di aprire due canali, io perché ho scoperto appunto, adesso torniamo al punto di prima, ho scoperto il magico mondo dell'SMR, lo scoperto grazie a una ragazza che si chiama Chiara SMR, ma prima di scoprire lei ho scoperto la mia maestra, che è la gemella Betta, ovviamente io la cito perché mi sta insegnando a fare i video in una maniera, in una maniera veramente che a volte parliamo anche quello del telefono, non parliamo solo di quello, comunque siamo comunque, la reputo anche come un'amica, che anche lei è una mia moderatrice, ovvero i moderatori sono le persone che gestiscono le tue live, oltre che anche il mio ragazzo fa il moderatore ovviamente, e sono le persone che comunque gestiscono la mia live, a te JC che saluto, ciao JC anche se non hai il canale, JC ha fatto un lavoro fantastico nelle mie ultime live, veramente ti ringrazio tantissimo e ti ringrazio anche il futuro perché veramente gestisci le mie live in una maniera spettacolare e hai un modo di porti verso di me che io appresso veramente tanto, perché molti non sanno che io sono dislessica e ho dei problemi veramente nella grammatica, alcune volte sbaglio i titoli, sbaglio i tag, sbaglio alcune cose grammaticali, lui mi corregge ma lo fa in una maniera costruttiva, non come molti che magari tendo poi ad offendermi, ma non perché so che magari non sono capace a scrivere, ma perché il semplice fatto che mi dà fastidio il fatto che una persona me lo faccia notare, in una maniera magari non tanto carina, tutto qua, perché io non sono consapevole di quello che faccio, non me ne accorgo, poi può sfuggire la parola, sfuggi anche le persone normali, però comunque io ringrazio sempre sia JC che leggevo la beta che mi sono aiutato tantissimo, soprattutto anche nel mio canale ASMR, che io appunto ho aperto un canale ASMR, perché facevo già video ASMR in Red Princess, però non erano, tra virgolette, valorizzati come io volevo, allora ho detto un giorno provo ad aprirne uno mio, cioè una parte, l'ho intitolato appunto Star ASMR, che ve lo lascio in alto sotto dove capita, l'ho tolto appunto tra i miei canali comunque, l'ho creato giocando col mio nome, non volevo chiamarlo Sar ASMR, Red Princess ASMR, perché sono stupido, ho tolto un nome tutto mio, lo chiamo Sara ASMR, come il deserto, infatti il significato appunto del mio, cioè il mio simbolo di Sar ASMR è il fennec, che è appunto una volpe del deserto, appunto data dal deserto del Sahara, l'ho creato penso 3 dicembre e gennaio, mi è uscito fuori così come idea, non è che ho fatto a prova, tanto mal che vado non cambia nulla, ho preso un po' di video che avevo già su Red Princess, e alcuni li ho creati io, e devo dire che ho avuto un grande riscontro, perché rispetto a Red Princess Sar ASMR ho avuto più visualizzazioni, ho avuto comunque, ho visto che i miei video venivano visti molto meglio, io amo proprio l'SMR, mi rilassa, mi piace, l'ho riscoperto appunto grazie a Chiara ASMR, che è famosa, molta gente la conosce nel mondo dell'SMR, o anche il suo libro, e grazie a proprio leggere la Beta, perché Beta, non so come, non mi ricordo come ti ho conosciuto a Beta veramente, è successo tramite persone terze, partecipando a tante live, di gente come Kartal Kubra, come le live di varie persone, tra cui anche balleri ASMR, altre persone, è successo che praticamente tra una persona e l'altra mi è capitato di capitare nel canale di Beta, da lì me ne sono innamorata, mi piaceva come faceva le live, mi piaceva come faceva i video, e da lì proprio io sono sempre stata sincera, il primo video che ho visto di lei è stato dove lei interpretava in roleplay la maga Ipazia, praticamente, mi piaceva un caso di poi ho fatto il video della lanterna, i tapping, io poi mi sono visita sui video vecchi, come li faceva, io sono saputo il concetto di Beta che tu avrei per me sempre a 36 anni, e te lo ricordo. Mi piaceva comunque come faceva i video, da lì proprio è stata la spinta che mi ha dato a vedere poi altri video, altri video sull'ASMR, da lì ho detto ma sia quel canale ASMR. E tuttora sono molto affezionata, quindi mi raccomando iscrivetevi al mio canale ASMR, che ci tengo in mente tantissimo se non siete ancora iscritti. E sempre sotto, sarà ASMR, se no ho cercato tra i miei canali l'ho trovata e l'ho messo a posta. E niente, questo percorso comunque mi ha portato veramente tanto, nel senso che ho imparato a montare, un po' a editare, è vero che sono ancora piccola, tra virgolette, a livello di iscritti, a livello magari anche di ore, se a qualcuno gli le frega qualcosa, ma non mi interessa questo, mi interessa il fatto che io sono cresciuta. Nel senso che YouTube mi ha dato molto, mi ha fatto aprire, mi ha fatto scoprire come si monta un video, come si fanno le copertine, che se potete me le farmi ragazzo, lo ammetto, perché mi scorcio un po' a fare le copertine. Ho riscoperto come si usa il telefono, è tutto un mondo a parte, che mi aiuta veramente tanto, come è un grande hobby, dove comunque ho fatto amicizia, dove adesso io gestisco addirittura dei gruppi, dove aiuto delle ragazze magari a emergere, a questi iscritti, tipo una ragazza che ho conosciuto per caso, è stata Empatia, che si chiama Claudia, che è un canale bellissimo che ve lo lascio qua sotto, vi riempirò di link ragazzi. Vi farò conoscere delle YouTuber e dei YouTuber fantastici, spero che ovviamente la prestarete. Praticamente Claudia è una ragazza che ho conosciuto per caso, forse su Instagram, o non mi ricordo bene, non mi ricordo mai più bene la gente come la conosco, per caso fa video bellissimi perché veramente rispecchia la parte molto empatica appunto di lei, proprio il nome la rispecchia. Ragazzi non c'ho più voce, l'ho detto due minuti prima le mie moderatrici, oggi che non c'avevo voce, facendo uno sforzo in mani a parlare, però ci dobbiamo fare questo video subito perché se no poi era un problema. Comunque ho conosciuto Claudia e gli ho sempre detto appunto in un momento in cui lei comunque vola mollare, o se non mollare, perché il suo canale veramente è molto molto bello, adesso è prossimo a mille iscritti, quindi aiutatemi mi raccomando, aiutatela ad arrivare a mille iscritti mi raccomando. Sarà sempre sotto, si chiama Empatia, il suo canale praticamente parla di come è la personalità, parla comunque di tante cose come anche l'ambiente, la psicologia, i fiori, cioè veramente è un canale veramente bellissimo ragazzi. Ci sono tante altre persone come comunque che hanno fatto questo viaggio, adesso, mentre ne le posso tagliare tutte, magari alcune persone potete anche cercarle sui miei vari, penso, i video, sulle persone comunque che mi commentano. Però ci ho passato veramente tanto tempo con loro, tanto tempo con loro a chiedere i loro pareri, tipo betta la sto assillando ultimamente per i miei video smr, e ho conosciuto queste persone e ci ho proprio fatto un amicizio, ci ho creato delle amicizie. Ottimamente sei unita anche nel gruppo, recentemente è Elisa Nastra, che sarebbe a tutti la presento come mia cugina, per il semplice fatto che è la cugina del mio ex ragazzo, così lo sapete tutti. La presento come mia cugina perché lei è come se fosse per me un'amica. Alla fine comunque l'ho conosciuta da tanto tempo, l'ho conosciuta molti anni fa, per me lei è bravissima. Devo sentire come canta, ve la lascio sempre qua sotto e la sto studiando su tante cose che lei dice, Sara io non so cosa siano, nemmeno io lo sapevo. Quando ho fatto gli esperimenti con i barattoli, ai 30 iscritti nemmeno io sapevo dove andare a parare. Non sapevo nemmeno che esistevano 400 programmi di editing, non sapevo tantissime cose. Non mi sarei mai immaginata che, tipo adesso dicevo dei regali della mia lista Amazon che, poi ci farò un video a parte, si è trovata delle cose strane e so è perché si è vicino il mio compleanno. Quindi si è trovata delle cose strane perché si è vicino il mio compleanno e quindi ci ho messo delle cose particolari. Quindi ecco per quel motivo del cui la mia lista Amazon si è un po' rimpolpata, non perché voglio spennarvi ma perché la utilizzo come aiuto per le persone che mi vogliono magari fare un pensierino per il compleanno, anche se non voglio che mi regalate niente, ve lo dico sempre, mi basterebbe vedervi ma purtroppo non ci possiamo vedere perché noi siamo proprio familiari. Però penso che a volte l'amicizia sia più forte della famiglia. Cioè per me la famiglia conta, ovviamente, però i miei parenti prossimi, nel senso mia mamma, mio padre, mia sorella, però io ho delle amicizie che era appunto quasi alla pari della mia famiglia, come anche il mio ragazzo, ovviamente. Cercando di non arrivare a fare un monologo, perché non ho idea di quanto questo video sia durando, per me è stato veramente un percorso importante e penso che non lo abbandonerò mai perché, ovviamente finché potrò, ovviamente se puoi lavorare tutto, cercherò comunque anche se porterò un video all'anno, un video al mese e cercherò di non abbandonare mai il mio canale, o i miei canali in generale, perché comunque è una parte di me che, appunto, questo anno compie tre anni e voglio farvi vedere tutto di me. Voglio, per me secondo me non c'è un'età per smettere di fare YouTube, ovviamente è ovvio che se c'è gente che ha figli, ha lavoro, ha tante cose, è ovvio che le priorità sono le priorità, io lo dico sempre anche nei miei gruppi. Il lavoro e la famiglia sono sempre la prima cosa, YouTube è comunque sempre un hobby, è un modo che noi abbiamo di sfogarci, è un modo che noi abbiamo comunque di parlare con le persone, io porto sempre, ovviamente la parte migliore di me stessa, a volte porto anche i miei dolori, porto le mie scoperte, ho portato con voi tutto, ho portato con voi quando mi sono lasciata con il mio ragazzo, quando mi è mancato il mio cane, ho portato sul mio, ho portato a vedere i miei video, c'è tutto, ho portato alle cose più stupide, alle cose più simpatiche, alle cose magari un po' meno, a quando sono scelerata per gli esami di stato, ho portato anche appunto quando mi sono visitata con il mio ragazzo Andrea, ho portato le live, vi ho portato video di ogni genere, possibilmente, tranne forse alcuni video che non li faccio come gameplay, perché non ho una console, però ho portato, ce l'ho di portare tutto me stessa, perché penso che appunto questo mio canale rispecchi me stessa, nella mia pazzia, nella mia lunaticità, è di selezia pure, ce l'ho di portare la parte veramente migliore di me, perché comunque sei depressi, non è che sia molto bello, quindi però ho cercato di trasmettere quello che volevo con tutti, conoscendo sempre appunto di più persone nuove durante questo mio tragitto, ho scoperto adesso da poco altre ragazze, che comunque le potete conoscere poi sotto nei commenti, se commenteranno siete liberi di seguirle, perché se commenteranno nel mio video le conoscerete, molte persone le ho perse purtroppo anche in questo viaggio, perché purtroppo ho avuto degli scontri con molte persone perché non la pensavano come me, mi è dispiaciuto molto perché con alcune persone magari non mi sono trovata o magari non mi sono aperta abbastanza, ho magari meno malinterpretato perché non sono mai stata una persona cattiva, sono sincera, cioè nel senso che sono persone molto schietta, sono molto testarda in alcune cose, però non sono stronza, l'unica cosa che mi ferisce quando dai tanto a una persona e la persona poi ti tratta di merda, mi chiamola così. Ho perso con le persone nel viaggio, però altre persone comunque rimango sempre, non mi sono aperta magari tantissimo, ma ci rimango, come esempio ho una ragazza che seguo tutt'ora che si chiama Income, che fa dei viaggi bellissimi, fa dei video bellissimi, seguo anche molto ancora, prima si chiama Marcella, si chiama l'angolo di Lady B se non sbaglio, non ricordo, ha cambiato comunque nome, lei fa tipo video su tipo la space, svuota tutto, e nonostante non faccia più parte del mio gruppo comunque non sento tutto continuiamo a seguirci comunque, una volta tanto nei video. Ho anche tante persone che seguo, seguo ogni persona di diverso tipo. Adesso seguo molte molte più ASMR artist, ovviamente perché tra di noi ci scambiamo opinioni, pareri, quindi è molto importante anche quello. Però comunque seguo tutto, ho seguito tantissimi gameplay, ho seguito tantissime persone sul calcio, c'è stato un periodo che ho un gruppo dove c'erano tantissime persone col calcio, ho visto tanti pareri sulla Juve, l'Inter, tantissime squadre, mi è piaciuto che era il gruppo appunto di Kartal, poi c'è stato, ho conosciuto tantissime persone comunque veramente, che ringrazio perché comunque ognuno di loro mi ha lasciato qualcosa, anche se poi ho cambiato i gruppi, poi ho avuto anche un gruppo solo femminile, tantissimi gruppi insomma ho avuto, poi ho creato i miei, perché sono sempre stata una di quelle persone che le cose le faccio un po' in modo mio, ma non perché voglio sentirmi superiore o perché sono egoista, egocentrica, egocentrico ma sembra un po' un mio ragazzo, però meno adesso, ma per semplicemente perché volevo determinate persone in un mio determinato gruppo, quindi magari sì faccio ancora parte di gruppi che non sono miei, però penso che sia importante volere dalla vita una cosa che ti appaga, in tutto. YouTube mi ha anche insegnato appunto che altre persone che non ti conoscevano, potevano apprezzare tante cose di te, potevano darti tanta autostima, perché YouTube secondo me ti aiuta molto nell'autostima, nel senso che impari ad essere forte, impari ad apprezzarti in alcune cose, impari molto, perché anche se delle persone ti dicono questi video di merda, video brutti, altre persone ti dicono che non è vero, che molte persone fanno così via gelosia, fanno così perché comunque non sanno cosa fare, i classici persone si chiamano haters, ho scoperto anche il dissing che non so nemmeno che cos'era, ho scoperto tantissime cose, ho scoperto comunque, ho scoperto me stessa, non mi sono più vergognata di me, di quello che negli anni ho subito, che molti non lo sanno ma ho subito un intervento di bypass gastrico, ho scoperto tante cose di me e quindi di questo anno mi sono molto contento. È nata appunto un'icona che mi chiamo Arete Princess, con la mia Tiara, che ringrazio ancora Luca per avermela regalata, la metto nei tutti i miei video speciali dove posso metterla, e vedo scomparire cose della mia stessa Amazon, quindi non so se ragazzi me ne state comprando o se Amazon è impazzito, comunque vi raccomando non mi fate scherzi, io veramente l'ho preso tantissimo, tutto ciò che fate per me, già il fatto che mi seguite nel live, partecipate con me nei discorsi sedi, stupidi, a dare i nomi ai miei draghi, sì perché è un drago di disegno che mi aiuta a dare i nomi, grazie a JC per avermi aiutato a chiamare Redfire, Redfire, c'è anche un drago che si chiama Redfire, è potente, anche se è un drago acquatico, cioè comunque avete passato con me tantissimi momenti, io vi ringrazio per questo, ho tantissime persone comunque che ora seguo, che magari prima non seguo più, adesso ho tante persone anche dei miei gruppi, magari se alcune persone non le ho citate non è perché non mi importa di voi, per carità, ma perché magari non mi ricordo tutti i nomi, non mi ricordo tutte le persone che comunque seguo, però magari quelle persone mi hanno lasciato di più rispetto ad altre, poi se riuscirò vi lascerò tutti i link qua sotto, e altre persone che sto pensando che mi hanno dato molto, c'è stato anche forse dei ragazzi, tipo un ragazzo che faceva cucina, Chef Nunzio, ecco Chef Nunzio che faceva cucina, e adesso non so se è ancora su YouTube o su Twitch, molti si sono sedili su Twitch e mi è dispiaciuto molto, ma perché comunque ancora li seguo, però YouTube o YouTube, io su Twitch non so, sono sempre stata incerta, perché preferisco ancora YouTube, finché YouTube non mi caccerà a calci in culo, rimarrò qui, quindi, poi altre ragazze che comunque tuttora seguo, c'è comunque Trento tra i giri, che si chiama David, tra l'altro, che comunque mi seguo ancora tantissimo nel mio gruppo, però nel Taloco, che da poco appunto li hanno pure aggherato il canale, mi dispiace tantissimo però nel Taloco, ho tante persone che nel mio gruppo c'è anche Nickel Catania, che si chiama anche lui Andrea, ho tantissima gente che comunque mi segue tuttora, mi scrive anche Melania che mi scrive tutti i messaggi su questo mondo, i gruppi, anche se ne sono batte Stefani nei suoi monologhi, vi posso assicurare, ho anche tante ragazze che non so chi siano che mi seguono, ragazze anche piccole, tipo ho scordato di avere una fan di 12 anni che mi segue, ho scordato di avere dei ragazzi che mi seguono, poi comunque ci sono altri ragazzi che hanno dei canali, altri che non ce l'hanno, tipo Scacco, Matto, tipo De Wercio, potrei finire di nominarli, ce ne sono tantissimi che poi hanno anche nomi strani, tipo ho un ragazzo che ha un nome lunghissimo che mi segue, che mi ha creato anche la Tiara, ho altri ragazzi che mi hanno seguito che hanno nomi ovviamente pseudonimi, ne ho veramente tantissimi che mi scrivono messaggi veramente molto belli e devo bere l'acqua, farò tutto in senza tagli, perché voglio che sia il più originale possibile, vedrò solo poi al massimo se riuscirò, se non avrà cose strane il video, però adesso spero di non doverlo montare perché voglio che sia il più naturale possibile, anche perché montare un video di questa portata perché sto vedendo che sta durando veramente tanto, mi odierete a morte, e niente volevo concludere questo qua, scusami se qualcuno non vi ha nominato, se non vi ha nominato potete picchiarmi, non scherzo, potete nominarvi da soli qua sotto, ho cercato di nominarmi tutti, sto pensando tutte le persone che possono far parte del mio mondo, altre persone comunque le conosco anche tramite messaggio, perché poche persone si lamentano il mio numero, altre no, di quelle che non mi vido non ce l'hanno, e non è per cattiveria ma perché è una questione di privacy, quindi molte persone mi hanno sempre chiesto il numero, non glielo ho mai dato, ce l'hanno solo i miei mod, ovviamente il mio ragazzo che è mio ragazzo, e poche persone ce l'hanno comunque, perché veramente è una cosa di privacy, e vi ringrazio per questo mio percorso, spero comunque di arrivare ancora più in alto, o comunque di migliorarmi sempre di più, perché comunque penso che sia molto importante, e niente, io vi saluto, come mi ama quelle musiche tibetane che si hanno il copyright e gli spara un colpo in testa, e niente, spero che comunque nel mio modo di fare, comunque vi abbiate trovato delle, diciamo, dei video simpatici, carini, se vi piace o qualche tematica che ultimamente non porto, iscrittemelo sotto nei commenti e le porterò, se qualche tematica vorreste rivederla, perché ad alcune ragazze mi ho scritto su Instagram, perché non porti più i cosa mangio in un giorno, i botinitina dei, se volete li riporterò, non so a quale numero sono arrivata, ma posso riportarli di nuovo, perché tengo comunque i diari alimentari su Instagram, mi sono molto approcciata a Instagram per aiutarmi con YouTube, quindi magari c'è gente che non guarda Instagram, quindi vi porto anche magari qualcosa su cosa mangio in un giorno, e spero un giorno di poter rifare video log magari all'istorante, e se riuscirò la cosa più importante è fare un video con la gemella Betta, se verrà a Torino, da me, faremo un video, non mi sono, ho sempre detto che sono di Torino, non l'ho mai nascosto io, sono di Torino, non vi dico mai la zona precisa, a volte lo dico in là, ma tanto comunque Torino è grande, ho cercato per sempre, però ragazzi, tutto ciò, dopo che sono morta, ce la posso fare, se ho dimenticato qualcuno, ripeto, non ve la prendete a male, non l'ho fatta apposta, veramente ragazzi, siete tantissimi, quindi comunque per me contate, anche se non vi ho nominato, e perché magari ho l'annesia, ho l'annesia in questo momento, ma non perché, per me non abbiate un peso. E niente, io adesso vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto, è veramente lungo, non volevo farlo più corto, ma io sono sempre un coro, che per me è veramente importante. Vi auguro una buona giornata, e scrivetemi sotto nei commenti quale, anche quale tipo di tematica mi piacerebbe che portassi di più, scrivetemi tutto quello che volete, se vi piacerebbe appunto più tematiche, se si vuole più tematiche sul cibo, sullo shopping, unboxing, non so, quello che volete voi. E grazie ancora per chi mi ha creato la tiara, la mia voce sa per svanire, io vi saluto, ci vediamo nel prossimo video. E il 20 maggio è il mio compleanno, se non mi fate gli auguri mi offendo, grazie. Saluto a tutti.